Io conosco Mondo Fitness ormai da più di otto anni, hanno collaborato veramente con energia, con passione, tutti gli istruttori, l'anima di questa iniziativa sono tutti gli istruttori che portano le loro attività veramente anche ad alti livelli con un'adrenalina, con un'energia, con un calore che rende veramente Mondo Fitness una grande famiglia. Questo è quello che ho visto io qui dentro da tanti anni e che oggi fa passare anche delle splendide serate, fa passare dei momenti anche per tantissimi bambini con i campus estivi perché io credo che da mamma e ho un bimbo qui vicino avere un bimbo che sta qui dentro in un'area all'aperto completamente immersa nello sport, nell'aggregazione, nell'aspetto sociale credo che sia un vantaggio grandissimo per Roma. Prima mi facevano una domanda, mi dicevano cosa perderebbe Roma se non avesse Mondo Fitness? E beh, penso che potete constatarlo voi con i vostri occhi, un grandissimo impegno ma sicuramente una grande energia da parte di chi ha voluto con tanti anni, tanti anni, riuscire con tante difficoltà perché oggi sappiamo benissimo che il nostro comune purtroppo perde in un momento disastroso. Quindi riuscire a farlo con delle proprie iniziative, anche sotto l'aspetto imprenditoriale e far sì che attraverso noi le istituzioni, lo sport viva, lo sport esista perché, ripeto, lo dico sempre, lo sport per me non è una spesa, è un grandissimo investimento per i nostri ragazzi. Va fatto, va portata avanti la passione di tutti i ragazzi che credono nello sport perché ti dà quella marcia in più, ti fa stare.